Ben ritrovati al meteo. Nella notte e mattinata cielo sarà prevalentemente nuvoloso e durante le prime ore sarà occupato da banchi di nebbia e locali foschie. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà ulteriormente a partire da sud ovest, ma non comporterà alcuna precipitazione associata. In serata infine vedremo un peggioramento delle condizioni atmosferiche che vedranno l'inizio di piogge dapprima sulla pianura e poi anche sui rilievi. Le temperature minime diminuiranno, mentre le massime tenderanno ad aumentare lievemente, raggiungendo persino lo zero termico, continuando a mostrarsi però su valori idonei per il periodo. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.